ciao sono mattia bentornati sul mio canale oggi vi mostro un frame nella scatola vedete che è di iflight ma in realtà questo è il frame progettato da chris rosser che è uno youtuber che abbiamo visto crescere moltissimo nell'ultimo periodo perché ci mostra analisi fem e studi sulle vibrazioni dei frame più importanti dopo aver analizzato tanti frame ha creato il suo frame fatto con i risultati delle sue ricerche che sembra essere uno dei frame perfetti almeno dal profilo delle vibrazioni per un po' è stato disponibile solo tramite alcuni siti inglesi o americani quindi sempre con dogana oppure con prezzi molto altri nel sito per esempio drone fpv racer ora è disponibile anche da banggood quindi appena l'ha messo disponibile ne ho preso un pezzo e ora ve lo mostro e poi farò anche una build con questo frame nei prossimi video innanzitutto facciamo due parole su chris rosser e sul suo canale che vi consiglio assolutamente io mi sono iscritto al suo canale quando aveva penso un centinaio di iscritti e trovo il suo lavoro davvero molto interessante lui è un ingegnere credo aerospaziale e ha iniziato facendo analisi fem quindi ad elementi finiti dei frame più notti io ho trovato il suo canale perché appunto cercavo informazioni su alcuni frame sostanzialmente cosa fa lui disegna il frame in 3d o si fa passare il disegno 3d di un frame e poi con le simulazioni fem va a vedere dove il frame si potrebbe migliorare dove ha più vibrazioni e che frequenze hanno le vibrazioni in modo da poter andare a riparare i difetti di un frame magari con betaflight utilizzando bene i filtri e cose del genere dopo un po di tempo ovviamente gli è venuto in mente di fare il suo frame e di applicare tutto quello che aveva visto andando a studiare i frame di altri il suo frame inizialmente era venduto da pnc madness che è un sito dove uno manda il progetto e poi viene tagliato per quindi conto terzi il frame era quindi disponibile solo praticamente tra america inghilterra e quindi con costi doganali e insomma cose che volevo evitare soprattutto anche a livello di tempistiche poi è stato disponibile da drone fpv racer e altri siti più comuni diciamo europei da dove avrei potuto acquistarlo più velocemente ma i prezzi erano alti e infine lui ha fatto un accordo con i flight che gli ha prodotto il frame in grande scala e quindi con un prezzo già più accessibile questo se non sbaglio è attorno ai 60 euro su banggood e vengono venduti su banggood considerate che nonostante sia banggood cina a me è arrivato in sette giorni lavorativi e il prezzo è più basso rispetto a tutti gli altri store che avevo visto se riesco vi faccio avere anche un codice sconto e se riesco ve lo lascio in descrizione altrimenti sicuramente usciranno codici e li troverete nel mio canale telegram andiamo ad aprire la scatola e vedete c'è la dotazione classica dei frame i flight qui troviamo adesivi che ovviamente non hanno nulla a che fare con chris rosser poi due strap una più lunga e una più corta entrambe in similpelle con le cuciture e fibia in metallo quindi strap fatte molto bene kit delle viti con tutta la viteria divisa per tipo quindi per agevolare l'assemblaggio il pad in gomma per appoggiare la lipo e non farla scivolare fatto bene secondo me la gomma è molto adesiva diciamo supporto per l'antenna stampato in tpu molto rigido in accordo alla filosofia di chris rosser e cioè che nessuna parte nel frame deve essere propensa a vibrazioni e quindi vogliamo anche l'antenna fpv montata nel modo più rigido possibile parabraccetti sempre in tpu stampati secondo me molto bene ai flight ha fatto un buon lavoro con le stampe 3d e poi tutto il carbonio allora vedete il design dei braccetti che è molto particolare ed è praticamente due braccetti molto sottili che vanno a montarsi con un foro ognuno nel telaio i braccetti sono da 6 mm spero si veda il calibro e questo perché la teoria di rosser è che sia molto più importante lo spessore del braccetto piuttosto che la larghezza quindi braccetto spessore 6 mm e praticamente largo 6 mm è quasi un quadrato vedete 7 e 40 comunque di poco più largo rispetto allo spessore quattro braccetti quindi e poi le piastre tutte con fori svasati per andare ad affossare le viti ed avere meno problemi con le lipo e abbiamo quindi bottom plate top plate ora io assemblo il frame e poi ve lo mostro assemblato per vedere il peso e capire un po come è distribuito per i vari componenti da montare sul frame ho assemblato il telaio e facciamo un paio di considerazioni innanzitutto vi danno una marea di hardware in più ve lo mostro qui abbiamo praticamente le viti lunghe per montare lo stack sia con m3 quindi viti m3 per stack 30x30 sia le viti sottili m2 per montare ad esempio una caddix vista sulla coda o sul fronte con i fori 20x20 poi vi danno cosa secondo me fondamentale dei viti per i motori queste viti sono abbastanza lunghe da essere utilizzate con i paramotori quindi considerano anche lo spessore del paramotore e poi vi danno degli extra sia per le viti lunghe dei braccetti che sono queste da 14 mm sia degli stand off in più tra gli stand off ce n'era uno che ha un filetto non fatto molto bene però fortunatamente c'erano quelli di ricambio quindi nessun problema comunque vedete che a fine assemblaggio vi avanza un bel po di hardware vi danno addirittura i gommini sia m3 che m2 per andare a fissare uno stack o comunque le schede al frame alleviando un po le vibrazioni e vi danno anche delle viti m2 di quelle piccole per andare a montare la cam al supporto cam fpv la cam si può montare con le due viti per lato quindi perfetto se avete per esempio ripeto la caddx vista o comunque una cam con i quattro fori e in generale il frame secondo me è fatto molto molto bene i flight veramente non ha risparmiato in questo telaio che comunque come prezzo è un frame di fascia alta vi faccio notare la scritta a o s che è il nome del frame o della serie di frame tutto il carbonio è stato smussato quindi si presenta molto bene sia il tatto che alla vista e la viteria è tutta secondo me molto buona non ho avuto problemi neanche come incastri per esempio le piastre frontali su parecchi frame hanno un incastro che è molto stretto oppure troppo lasco invece questo è fatto secondo me molto bene a livello di possibilità di montaggio dei componenti abbiamo due spazi per uno stack 30x30 sul fronte o sul retro e invece al centro non abbiamo posto per montare praticamente nulla se non appoggiato qui sopra la x che chiude i braccetti ma comunque non avvitato quindi sostanzialmente per assembliare quad dovremmo montare lo stack sul fronte e magari la air unit sul retro oppure fc sul fronte e desk sul retro tutto in realtà fattibile non è un problema anche perché i problemi se avete la fc non al centro derivano da debolezze del frame e profili di vibrazione un po' strani essendo un frame studiato per avere meno vibrazioni possibili non dovrebbe essere problematico una cosa da notare è che lo spazio per lo stack è un po' limitato dai braccetti quindi o avete uno stack di dimensioni non troppo superiori al 30x30 o forse sarebbe meglio prendere uno stack 20x20 quindi ragionerò un po' se utilizzare lo stack 30x30 che avevo previsto di montare su questo frame o se prenderne uno 20x20 visto che comunque come hardware i 20x20 hanno fatto passi da gigante e sono più che adeguati anche per un 5 pollici esistono altre versioni in vendita di questo frame abbiamo la versione 3.5 pollici che è diciamo il più compatto molto interessante sempre da utilizzare con elettronica 20x20 esclusivamente poi questa è la versione 5 pollici che porta anche il 30x30 e che è diciamo lo standard e poi ci propone chris rosser anche una versione 5 pollici e mezzo che a suo dire è la misura migliore per andare a portare una gopro hero 7 8 9 10 cioè le gopro full size questo invece sarebbe la versione propensa al freestyle per utilizzare una session 5 o comunque cam un po' più leggera io infatti ho preso questo perché uso sempre la session e questo per me era il frame con cui assemblare una build da divertimento più che da riprese qui sulla top plate vi faccio notare questi due fori che sono studiati per avere un pattern dove andare ad avvitare il supporto per la cam hd quindi sia che sia una gopro full size sia una session avremo la stampa 3d da avvitare qui sopra ci sono varie stl disponibili devo ancora scegliere quello da fare per la mia build in ogni caso vi ripeto carbonio viti hardware tutto secondo me di ottima qualità e sorprendente rispetto al prezzo che comunque non è tra i più alti per un frame 5 pollici farò una build con questo frame perché mi interessa molto e ve la mostrerò presto nel canale come sempre in descrizione trovate i link sia il frame sia il canale telegram con le offerte ed eventuali codici sconto spero che questo video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao